Anche Sapri risponde alla chiamata di Pharrell Williams e si mostra pronta ad esprimere la propria felicità sulle note del tormentone Happy. Dal 12 aprile scorso sono iniziate le riprese per le vie della cittadina che mostrano su imitazione del noto video del cantante statunitense persone comuni che improvvisano balletti e mossette seguendo il ritmo della musica. Il tutto è stato organizzato a Sapri da una troupe d'eccezione tra cui c'è Gennaro Falabella, già conosciuto per i suoi trascorsi da regista di cortometraggi, approdate anche al Villamare Film Festival, i suoi fratelli Domenico e Rosario, il giornalista Francesco Lombardi e poi Ilaria Valentino, Mino Sternativo, Erika Sorrentino e Andrea Moscatello. È stata loro l'idea di aprire una pagina Facebook per mettere in campana i propri concittadini e poi di andarli a stanare per le vie di Sapri con un paio di telecamere, un microfono, un cartello colorato per annunciare il senso della loro missione, la musica a palla e tanta simpatia. E tra qualcuno che si defila e chi si nasconde per pudore, a sorpresa sono stati tanti cittadini mostratisi disposti in pochi secondi a mettersi in gioco. Chi accenna pochi passi, chi si è organizzato con la propria palestra o associazione per mettere in piedi vere e proprie coreografie e idee originali, tutti hanno contribuito a creare il videoclip musicale. Grande collaborazione è stata mostrata anche dai commercianti, pronti in qualche caso anche a far furore. I Falabella Brothers e tutta la crew hanno perfino cercato di corrompere per un balletto la vigilessa del comune. Niente da fare, ma a prestarsi è stato direttamente il sindaco Giuseppe Delmedico e alcuni consiglieri comunali che non hanno disdegnato di esibirsi in qualche passo di danza all'interno dello stesso municipio. Il segnale del resto vuole essere positivo, esprimere la propria felicità di vivere a Sapri, come sulla scia del video di Farrell Williams, hanno già fatto molte città del mondo, dell'Italia e dello stesso Cilento. Tutti i video finiti su YouTube a sancire il successo della canzone, tanto che Williams ha deciso di raccogliere le circa mille clip girate ovunque. Le riprese per le appi Saprese sono quasi ultimate e mentre si possono seguire gli sviluppi dell'iniziativa sulla pagina Facebook We Are Happy From Sapri, ora si passa al montaggio con la responsabilità e la difficoltà di inserire in quattro minuti le tante persone che hanno sposato il progetto. La presentazione ufficiale del videoclip avverrà il prossimo 7 giugno alle 21 in piazza San Giovanni nell'ambito della manifestazione sindaco per un giorno, ma di certo in questo mese sono in tanti ad essersi divertiti. Stiamo divertendo molto. Buongiorno!